Il brano del Vangelo di oggi è formato in realtà da due differenti brani tratti dal capitolo settimo di Giovanni. Forse è per questo che non è chiarissimo il senso che dovremmo intendere dalla sua lettura. Da un lato si dice che Gesù girasse alla larga dai giudei visto che per lui tirava una brutta aria volendolo uccidere. Dall'altra si racconta di una sua salita a Gerusalemme per la festa delle capanne ma in incognito. Di certo Gesù non è un pavido o un fifone, semplicemente si dice che non era ancora arrivata la sua ora. Facciamo una sola considerazione. L'annuncio vero del Vangelo non è mai esente dalla croce. Se sei apprezzato, hai successo, tutto fila liscio e nessuno si lamenta, allora deve nascere il sospetto che non stai annunciando le cose di Dio. Gesù a differenza nostra non va a tentativi ma sceglie una sola via, è quella del seme che se non muore non porta frutto. Buona giornata.